Ora vorrei sempre cantare una canzone, se mi aggiuntateci voi, potete. Questa canzone ha venduto quasi per milioni di discori in tutta l'uomo, ci ha foste tradussi in 12 limbe, si dice limbe? Limbe. 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 Ha foste un male successo mondiale. Noi am fost peste tot, Australia, America, cu asta canta, acum de 35 de ani inainte. Erai mai tineri, eri mai frumos acum. Ne descurci cum se pot. La canzone ISAEL, când e un reflej, Silvan știu reflej ce e, când e un reflej, se cantam impreuna. Perché nu mai o singura vorba e ISAEL. Ținit aminte, cum vedem se sunteți dragi. Lei. masCRES Basciati. Sì, si segue con una strada che cammina. Lettamente tanta gente si avvicina. Tutti! Yes, ma è una fantasma? Yes, ma è una fantasma? Yes, ma è una fantasma? Mille luci come ombre in mare aperto La terza strada sta sfiorando i grattacieli Quinta strada sta volando verso il cielo Tutti, anche una! Liberati dal cemento e dalle luci E il silenzio è l'enare delle luci Ehi! 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti!